Avanti mi raccomando, statemi muti e fatemi parare perché io sento che mi scatto di cose. Allora, dunque, un nero, mi chiamo magari il microfono stotto vai. E buonasera, sono Mario Mondi, nuovo presidente. E vai a dire una cosa, vai a dire una cosa che forse ancora watch nella Lada Caputo. E siamo tutti in da me, da cari russi qua. Allora, siccome stiamo mutando i soldi, ora sono altri, abbiamo scenduto un po' di cinta. Ah, cinta, perché io non ti ho scenduto l'accordo? Bastato, ma che ho fissuto già di questo pozzo. Allora, come stavo dicendo, siccome ne usiamo tutti i soldi a bingo, è pessimo come con noi. Andiamo a fare un po' di sacrifici, ma. Allora, come primo punto, battiamo la benzina. Da domani la benzina pavate a 150 euro e 50 centesimi al litro, io vado a stare pure. Se qualcuno non paghino a travagliare, perché la benzina costa assai, si attacca e scappi i tennis e ci va bene. Oh, ma c'è tua casetta, ma delice, ah? Vecchio, a questo mi diventa a saccagnarmi. I pensioni vi potete scudare. Da domani i pensioni non c'è. Se ci ha facito i cacci campati, a 140 anni vi eravamo 20 euro, come premio. Però andate a ballare magari a breakdance, perché se non c'è non c'è. E mi tengo io, se lo so, così sgravitiamo. Non mi cattare la viagra che già stiamo venendo a scondorre. Cazzo mio vecchio. Cazzo mio vecchio.